Mentre io vado a presentare il prossimo concorrente che è Carlo Ferrini. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Maurizio, buonasera. Prego, prego. Allora, niente, io mi chiamo Carlo Ferrini, sono di Napoli, sono cantatore napoletano. Guarda, io lo so che tu ti muoverai in scena, però adesso che stai parlando stai un attimo fermo, stanno impazzendo le camere. Ok, niente, volevo dire proprio due parole sul pezzo che in questi giorni ho cantato, che è un pezzo mio ovviamente, l'ho scelto, questo è un pezzo prodotto due anni fa, forse borderline per questo tipo di contest, però mi mette emozione, mi dà emozione, mi diverte. Quindi spero di coinvolgere tutti loro. Sicuramente sì, visto quello che si è visto nelle semifinali. Tu dovevi dirmi qualcosa forse? Adesso mi sforzo, dillo a te. No, no, mi hai fatto un complimento. Ah no, beh, l'avrei detto dopo. Ah vabbè, allora diciamo dopo. Eh beh, certo, prima ascoltiamo e poi... No, no. Il pezzo si intitola L'alba vista dal mio cuscino. Carlo Ferrini. Grazie, grazie. Andiamo. Di nostalgie non soffro più, ma quando ci sei tu. Se accendo la radio riesco ad ascoltare, le canzoni che un tempo facevano male. Detro di me tu resterai e non avrò paura mai. E se una nube offuscherà il mio sorriso, tu per me sempre sarai. Il sole del mattino, l'alba vista dal mio cuscino. Un caldo abbraccio noi due, nei silenzi del cuore. Quante volte ti ho cercato, quante volte avrei voluto invitare qualche cosa che poi mi parlasse di te. Quante volte ti ho cercato, quanto tempo abbiamo sprecato, quando oramai era tutto deciso. Ora è tardi per capire, quello che potevamo avere. E il tuo ricordo sarà con me, sempre per sempre, dentro di me. Come un baglione investirai tutto il mio mondo. E più forza ancora mi darai. Il sole del mattino, l'alba vista dal mio cuscino. Un caldo abbraccio noi due, i silenzi del cuore. Quante volte ho investito, non credevo che semmai avessi amato un'altra donna così. Non sarei più tornato da lei. Se vi all'intimazione era sempre un'emozione, l'alba è detta molto a posto di amore. La storia di noi due è una storia tra le dita, anche se lontana non è mai finita. Ti sento ancora dentro come fosse ieri, i colori dei tuoi occhi sono di pensieri. Il telefono nel tempo dice, vent'è saggio, ascolta sta canzone e forse avrai il coraggio. Tu sole del mattino, alba vista dal mio cuscino. Un caldo abbraccio noi due, i silenzi del cuore. Quante volte ho investito, non credevo che semmai avessi amato un'altra donna così. Non sarei più tornato da lei. Grazie, grazie. Grazie. Carlo Ferrini, il nostro Pino D'Angio. Grazie mille. So che tra i giovani sta tornando un pochettino una certa sonorità anni 80. Ma infatti una parola proprio velocissima. Il progetto mio è proprio questo, di riportare la musica degli anni 80, che poi è stata la mia musica. La nostra musica. La nostra musica rivisitata anche non solo con gli ineriti che scrivo io, ma anche con delle cover, con degli arrangiamenti particolari. Quindi questo. Grazie. Grazie. Grazie a te Carlo Ferrini. Grazie a te Carlo Ferrini.